e finisce così la partita alla Slavuc Arena la Roma batte 3 a 0 il Zoria ragazzi il Zoria o il Zoria chiamatelo come volete voi con gol di Esharawi, Smoling e Tammy Abram una Roma fantastica, grande Roma, grande partita e grande prestazione di tutti quanti oggi tutti ampiamente sufficienti ciao ragazzi e bentornati in questo video qui è Giapets oggi siamo qui ragazzi nel Giapets commentate per commentare il post partita dei ragazzi della mia Roma che batte 3 a 0 il Zoria partita giocata bene, grande partita dei giallorossi io ragazzi prima di tutto ciò di parlarvi della partita vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, una bella condivisione se non vi iscrivetevi al canale, attivate la campagna di notifiche e mi raccomando venite a seguirci i social che trovate il link qua sotto in descrizione e ovviamente andate a seguire anche la pagina in cui sto collaborando ovvero la pagina Vena Romanista, una dei migliori fanpage a tema Roma passate anche sul loro sito e vendono maglie da calcio e cover per telefoni sempre a tema Roma materiali di ottima qualità, prezzi scontati e con il mio codice sconto avrete Giapets il mio codice sconto Giapets avrete un ulteriore sconto se ho acquistato il prodotto fate una foto, taggatemi su Instagram e vi riposto nelle mie stories e parliamo della partita, vi ricordo che dopo stasera ci sarà anche il post partita della Lazio ovviamente non farò la live ma solamente il post partita e vi ricordo che a fine video vi lascio a fine video anche la mia live reaction di questa partita la trovate a fine video, comunque cercate sul canale prima di questo video è uscita la live reaction quindi andatela a vedere parlando della partita, voglio dire una parola sul Napoli dire che il Napoli oggi ha perso 2-1, 3-1, vinceva 1-0 e si è fatta ribaltare nel finale ha perso addirittura se non sbaglio 3-1 ho seguito, gli ho dato un'occhiata più che altro durante i momenti morti della partita però comunque voglio analizzare la partita della Roma, non del Napoli perché il Napoli ha visto solo qualche azione, ho visto solamente che il risultato e ho visto qualche azione così nel tempo morto parlando della partita della Roma, la Roma ha fatto 18 tiri quindi praticamente ha giocato quasi esclusivamente sulla Roma 10 in porta, quindi tanti tiri abbiamo fatto 3 gol che è comunque un buon bottino più che altro è importante che abbiamo subito 0 gol quindi clean sheet da parte della Roma e ci sono state diverse parate del portiere del Zoria non mi ricordo come si chiama il portiere oddio Mazzupara 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 mi pare si chiama ha fatto diverse parate e il gol arriva al settimo minuto gol del faraone Stefano Esciarawi bello il pallone di Darbo che fa Darbo oggi migliore in campo a mio modo di vedere il migliore in campo oggi Darbo voto 8 in Pagella il migliore in campo secondo me partita super un mostro del centro campo sempre nel vivo del gioco sia in fase di costruzione sia in fase di interdizione e sia in fase di progressione quindi perfetto appunto Darbo che fa l'assist al bacio per Esciarawi che come al solito timbra sempre il cartellino in Europa in conference con il gol dell'1-0 poi ragazzi c'è stato un momento morto con diverse occasioni in cui però non siamo riusciti a portarci sul 2-0 al primo tempo ci siamo portati sul 2-0 loro hanno fatto poche occasioni non mi vengono in mente quante le occasioni loro non mi vengono in mente nel finale fanno un'occasione hanno loro un'occasione clamorosa in cui interviene fa un miracolo Rui Patrizio comunque il secondo gol avviene al 66esimo con il gol di Chris Smalling torna al gol anche Chris Smalling che era un sacco di mesi che non segnava più dalla stagione scorsa quindi primo gol in questa stagione di Smalling ottima partita di Smalling l'unico che forse ha lasciato un po' a desiderare oggi è stato Kumbula che non è che mi è piaciuto tanto sufficiente la prestazione di Kumbula ma ha un 6 stream in silo forse uno dei uno dei meno migliori della partita della Roma forse uno dei al quale do 6 perché gli altri comunque do sempre più di 6 solo a Smalling gli do un semplice 6 solo a Kumbula gli do un semplice 6 arriva il gol di Smalling su calcio d'angolo la spizzata se non sbaglio di Cristante la deviazione di Cristante Smalling che si fa trovare pronto e la butta dentro il 2 a 0 e poi ragazzi dopo praticamente due minuti diciamo che la Roma cambia partita da quando subentrano in campo Zagnolo porca troia da quando entrano scusatemi da quando entrano in campo Zagnolo e Tami Abram cambia completamente il ritmo della partita la Roma che inizia a attaccare e così poi dopo se arrivano il gol del 2 a 0 anche del 3 a 0 con Tami Abram Cemi Abram Tami 3 punti non chiedermi niente perché Abram segna per me dai e Tami dai e Tami Cemi Abram torna il gol bello il gol di Tami Abram veramente bello 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 lo stop di petto se l'appoggia sul destro tiro a giro sull'angolino dove il portiere non ci può arrivare e ovviamente il gol del 3 a 0 e il gol del K poi nel finale ultima azione verso una delle ultime azioni durante i minuti di recupero c'è un'occasione clamorosa per il Zoria in cui fa un intervento miracoloso di Patrizio eppure lui oggi a casa porta a casa un bel 7 in pagella con solamente una parata però si porta a casa un 7 in pagella detto ciò migliore in campo secondo me Darbo votò 8 gli altri comunque tutti da 6 e mezzo in su da 6 e mezzo fino a 7 e mezzo e poi ovviamente migliore in campo Darbo ditemela vostra il migliore in campo se vi è piaciuta la partita carichi per la prossima settimana quindi mi raccomando carichi per la prossima di campionato e niente ragazzi vi aspetto dopo per il post partita da Lazio e per nel weekend rimanete attivi quindi un bel mi piace un bel commento una bella condizione iscrivetevi al canale attivate la campanella niente ragazzi da qui tutto e noi ci vediamo un prossimo ragazzi sempre e comunque forza al calcio e forza a Roma sempre forza magica sempre forza a Roma ciao regà bella ciao